Nella quale ci sarà, grazie a tutti, ben e pronto, e questa è la posizione di giustizia. La posizione di giustizia è la posizione di giustizia. La posizione di giustizia è la posizione di giustizia. La posizione di giustizia è la posizione di giustizia. La posizione di giustizia è la posizione di giustizia. La posizione di giustizia è la posizione di giustizia. E' un verso di mando da voi i propositi politici, ma quando fate le affermazioni verso gli amici che stavano dietro, si c'erano il nuovo disco, e in particolar modo Marco dice che voglio dialogare con la loro stazione, i socialisti sono proprio che hanno buttato l'acqua, sono trovati in testa sala, non hanno quanto dire domani perché è il pubblico, fammi parlare, fammi parlare, se no vai a dormire fai bene, oggi non lo so, fammi trattare bene, lo sai già, faccio me che non siete, certamente non sono stessi dei russi, ma tu lo sai che devi bagnare, non lo so, ma non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, ci sono i piacenti, non lo so. Ma lo dico da solo una vera opposizione, come voglio dire una vera che è un amico, hanno votato in consiglio la pilotizzazione dell'acqua, poi dopo 20 giorni fanno una vera formazione, ma non fanno prendere la firma per il pubblico togliendo la paternità per la verità è un'iniziativa di sinistra ma per tutti mi ha trasciuto a volte del giorno l'amico mio Fuccio che io scapposo quando dice facciamo il sottetto ma l'ultimo concetto riguardante i miei 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 conti ma l'amico Fuccio ha votato insieme a noi come abbrassi oggi perché le energie delle sole per capire perché si va il sottetto perdonatemi non è il sottetto non è il sottetto ma pregheremo il contese a me pregheremo il contese a me il Presidente noi su questo caso la cortesia di Giozani il Consigliere Fuccio la faccio lavorare io posso lavorare più di me il suo immo io posso lavorare allora la cortesia la cortesia di Giozani sono in attore il Presidente mi fa lavorare per la nuova il Consigliere Fuccio e allora esce non guardare il problema non posso arrivare per la nuova mi dispiace perché faccio la cortesia di Giozani ma ci vediamo non dovrete sentire questa cortesia la cortesia di Giozani ma non dovrete sentire io per l'altro è più osticato perché io una volta il Sintro fa una famiglia così e lui stava svenendo poi vado a riusci sentire ti prego a queste cose ti prego io facciamo il fatto che stiamo d'accordo su questo campo non usciamo fuori ti prego mette a votazione comunque vada per lamentare fino a la stessa generazione non nessun non lo so dichiarate non mi interessa io non lo so perché sono tutte persone preparate chiunque possa venire fuori ma facciamo questo prendimento progresso perché deve partire dall'amministrazione si deve votare il fidanzo noi non dobbiamo perdere tempo in questo Consiglio Comunale che stiamo facendo da due mesi grazie non si chiede non si chiede non si chiede perché se il regalo potesse credere che fosse intervenire 10 volte dovevamo fare una seconda di 48 euro questo non è possibile si rende d'accordo per cui l'ambillo a non assumere le iniziative non essere a loro per ieri allora ci sono questioni la sua l'amera della politica lasciamo stare un solo personale consigliere Mariano Marino per parte di persona non mi do la parola però che siano solo parti di persona perché l'amera è lo stesso noi consigliere come possiamo fare di questo e a mettere questo non è un po' più scopo io conservo la sensazione di stare in aula tribunale giù a me si sono più cari che ora io ho 30 35 di quello che è tantissimo quando il centro guardate in 24 ma non ho forse la fortuna di essere che è legato non c'è le occhi magari c'è le occhi non lo so continua adesso il titolo che è in base con l'accento dell'acqua io voglio non ripetere ricordare che questo deve dipendere che l'acqua è rimane e far a sé che un bel che non è un bel del mio non è un bel di più qualsiasi alla pazienza la scelta che decido e che dentro l'accento del portano giudizio fu quella semplicemente a se me dicevo a dove avevamo pensato che fosse giusto che una concessione che la stessa non c'è stata che non avevo concessione a dire fosse colgata a tutta la città che anche via e che anche via quattro facessero parte di questa distanza e quindi non si riusciva a capire per quale motivo nessuno si fosse rinnovato a quest'acqua che rimane un bel spagnale potesse essere giustamente tratta gente di indicatoria e non potesse essere d'accento di più io per finire qua per la prima volta 3 anni di laurea ho dovuto lasciare il studio e ho lasciato i filassini di fuori adesso quando ho avuto un sms da parte di una nuve e quindi c'è la signora parte d'arte che sta aspettando un'urgenza porca vicenda io non ho nessun datore di lavoro che mi abbia passato questa sera io domani mattina sarò costretto e ho detto a me si vediamo domani mattina perché adesso devo andare in domani lavorerò gratis queste cose qua e mi ricordo se la democrazia ha un prezzo e quando si decide che la democrazia non dovrà venire in un paese e allora cominciamo a cittadurare allora io vi prego per favore siamo un pochettino più soffri ormai siamo arrivati a non di con usci ormai si parte di decidere che sono queste disegnazioni devono avete maggioranza fatelo fatelo noi però non non abbiamo le le persone siamo personalmente più capaci di fare un'altra che non abbiamo la possibilità di far una discrezione più meno di questa decisione così come si fa in qualsiasi dico di concursi io voglio essere garantito sempre attenzione a scena un medico che che ne ha fiducia io non so adesso che cosa dovrete dire a questo punto che dover fare non essere deputati a domenica no allora chiaramente perché si faccia insoluzione se questo punto sono sicuro perché perché se io adesso ti dicesse sarebbe un uomo se sarebbe stato veramente raccordato da cosa ma io questo non lo so fare a questo punto oggi si credo i credenti che riesce su questa tutta l'esperienza su l'arzialità sull'intiritturismo tutta questo punto con questo no grazie mi no